Sono tutti così impauriti dal tempo e da come faccio a sparire le cose, ma è per questo che siamo fotografi, no? Siamo conservatori per natura. Scattiamo foto per fermare il tempo e affidare i singoli momenti all'eternità. Scattiamo foto per fermare il tempo Scattiamo foto per fermare il tempo